E' un Conad Mordano strepitoso, quello che sconfigge 3 a 1 la Wispimola Volleya, nel campionato provinciale under 18. Le ospiti respirano solamente nel terzo set, quando Mordano non chiude il match come avrebbe dovuto e potuto. Primo set senza patemi per le locali, che poi nel secondo set scappano addirittura sul 17 a 1. Con la vittoria ormai in tasca, Mordano lascia spazio alla reazione ospite, che nel finale di terzo set trova gli spunti per strappare parziale. A rientro in campo, Conad Mordano rimette le cose a posto lasciando le briciole alle avversarie. Terza vittoria in altre tante gare disputate. Coach Lorenzo Tondini deve essere soddisfatto per le risposte ricevute sul campo dalle sue atlete. Tra l'altro, 5 mordanesi in doppia cifra. Dimostra una perfetta spartizione del peso dell'attacco e un ottimo apporto in battuta. Quindi 9 punti e testa della classifica per costi e compagne.